Dati del mercato e lavoro impressionanti in America, questo avrà risvolti sulla politica monetaria della Federal Reserve e a Wall Street cosa fare, puntare o vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Le due operazioni che mi sono aperto stamattina proprio per me, su un rialzista sul petrolio, perché per me il crude in realtà resta in un range, in un range laterale. Il range è largo, però stamattina l'ho aperto a 75,50, penso che lo possa andare a ritestare, non è un problema, con un target a 77,50, anche perché il 6 sullo spike a ribasso ha dato un segnale long importante, cioè sostanzialmente ritengo che il petrolio vada gestito in lateralità, per cui qualsiasi debolezza importante va comprata e qualsiasi forza importante va venduta. Lo stop, sì, sotto il 73,40, insomma due dollari sotto. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading.